Dopo il corteo di protesta di cittadini, sindacati e politici andato in scena lo scorso fine settimana per dire no all'imminente chiusura dell'ospedale di Agropoli, stamane parola al manager dell'ASL di Salerno Antonio Squillante che ha parlato chiaro rispetto al futuro del nosocomio agropolese. Si è parlato di riconversione dell'ospedale perché la parola d'ordine è la razionalizzazione tagliando e riducendo le spese. Tante le novità previste dall'ASL di Salerno per il presidio di Agropoli. I numeri secondo Squillante sono eloquenti e non hanno permesso una diversa attuazione per il futuro dell'ospedale. Il problema è che noi dobbiamo prendere coscienza del fatto che non ci possiamo permettere tutto. Ci sono delle restrizioni di tipo economico generali. L'ASL Salerno ha perso circa 28 milioni di euro sull'assegnazione. Bisogna razionalizzare. D'altronde si è sempre parlato di eliminare gli sprechi. Non voglio dire che l'ospedale di Agropolo è uno spreco, però sicuramente rispetto a quello che è il costo di funzionamento dell'ospedale e la produttività c'è un delta di 7 milioni di euro. Quindi effettivamente c'è necessità di una razionalizzazione. D'altronde dobbiamo dire che la legge prevede la riconversione di questo ospedale, di questo presidio e doveva essere fatta un bel po' di tempo fa. Purtroppo sono io adesso a dover governare questo processo. Non mi tiro indietro di fronte alle responsabilità. L'ospedale innanzitutto rimarrà come struttura locale e come dei service, il che significa che noi abbiamo un'assistenza qualificata, quindi non vi saranno più i ricoveri. Il pronto soccorso sarà riconvertito in un psaut avanzato con tre ambulanze che garantiranno la sicurezza nell'emergenza. D'altronde per quanto riguarda le emergenze dobbiamo dire che il presidio di Agropoli quando è nato è nato proprio con la finalità di stabilizzare i pazienti. Dobbiamo dire che nel 2011 ne ha stabilizzati ben poco, solo 127.